eccoci vai mordico vai mordico è lanciato lo sprint è lanciato lo sprint c'è l'onardi c'è moschetti c'è gesper che vince gesper philipsen gesper philipsen si aggiudica questa tappa bella affermazione per gesper philipsen in maglia bianca l'atteta che si era classificato al terzo posto e l'appollato sprint di fornì gesper philipsen lascia il proprio segno